Conte vuole un percorso negoziale di pace, è contrario al riarmo, uno dei pochi partiti in Parlamento. Che voto dai a questa posizione di Conte? A questa posizione di Conte do sei più, Luca. È una sufficienza non proprio debordante, per un motivo molto semplice. Io non ho tutte queste certezze su questo tema e quindi anche prima, quando ascoltavo con grande piacere il confronto tra Marco e Sallusti, è chiaro che tendo a pendere molto più dalla parte di Marco, però con meno convinzione rispetto a Marco, rispetto a tante altre persone che stimo tanto, come Montanari, eccetera, eccetera. Quindi credo che alla fine Conte dica il giusto e quantomeno ponga un problema fondamentale, cioè quello che stiamo facendo sinora ha funzionato? No. Quindi cerchiamo una via alternativa, che è difficilissimo, ma è giusto provarci. Al tempo stesso la sufficienza che io do a Conte è anche dettata dal fatto che secondo me Conte e Cinque Stelle hanno avuto un percorso che hanno avuto anche molti italiani, compreso nel mio piccolo sottoscritto, cioè inizialmente un anno fa, quando esplosa questa guerra tragica, in tanti iper pacifisti hanno detto eh no, stavolta bisogna aiutarli, bisogna mandare le armi. Quindi ci stava, secondo me, un anno fa dire di sì a quella risoluzione. Dopodiché torniamo al punto di partenza. Ha funzionato? No. Per questo motivo credo che Conte ponga un'attenzione giusta e credo al tempo stesso che Conte abbia discrete praterie, perdonami la digressione brutale a livello di politica e politicienne, però credo che abbia delle praterie davanti quando fa questi discorsi, perché mette in grande difficoltà il Partito Democratico, mette in grande difficoltà Elish Line e prende dei voti che probabilmente stanno arrivando anche da destra. E in questo senso il voltafalcia di Romeo, della Lega o la posizione di Berlusconi ci dice che da quella parte lì c'è un bacino elettorale notevole che prima o poi tornerà ai 5 Stelle, alla Lega o a Forza Italia e probabilmente abbandonerà Frateri d'Italia. Non è questione di settimane, ma prima o poi questo travaso secondo me ci sarà. Giuseppe Conte che ha accusato Giorgia Meloni di andare a prendere ordini in Europa e lei ha risposto così a Giuseppe Conte. Ho sentito dire che io andrei in Europa a prendere ordini. Guardi, questo lo vedranno i fatti, però una cosa gliela dico, non mi vedrà mai, perché io preferisco piuttosto dimettermi, presentarmi al cospetto di un mio omologo europeo con i toni con i quali Giuseppe Conte andò al cospetto di Angela Merkel a dirle che il Movimento 5 Stelle erano ragazzi che avevano paura di scendere nei consensi, ma alla fine avrebbero fatto quello che loro chiedevano. Preferisco dimettermi che rappresentare una nazione del genere. Grazie. Giuseppe Conte ha risposto a stretto giro di posto dicendo che lui ha portato oltre 200 miliardi per il PNRR andando a battere i pugni in Europa. Che voto dai a questa Meloni? A questa Meloni do 5,5 che è un'insufficienza ma non così brutale e anche qui cerco di spiegartelo velocemente. Quello che ha detto la Meloni è totalmente falso, sia perché la Meloni non si dimetterebbe mai, sia perché Conte è stato molto meno sussiegoso e pavido di quanto l'abbia raccontata la Meloni, al punto tale che la Meloni dopo la vittoria oggettiva di Conte nel Conte 2 quando ottenne il PNRR andò in televisione il 21 luglio del 2020 Giorgia Meloni, la 7 in onda e fece i compimenti a Conte dicendo effettivamente Conte è tornato dall'Europa in piedi e ha fatto fare una bella figura d'Italia. Quindi quando vuole anche Giorgia Meloni era, è e sarà onesta intellettualmente. E potremmo anche rispondere a Giorgia Meloni dicendole che anche adesso, due giorni fa, quando è stata al Consiglio Europeo, lei stessa non ha ottenuto grandi risultati sulla questione migranti e non solo. Però non le do un 2, un 3, un 4 come pure le ho dato e magari le darò in futuro perché lei è furba quando fa questi discorsi. Cioè il suo elettorato se la sente come l'ha sentita due giorni fa, come tu hai fatto sentire adesso, è convinta. In qualche modo il suo elettorato ci crede a quello che dice la Meloni. Quindi la Meloni, a parte la conferenza stampa disastrosa di Cutro, è una persona, il suo governo no, ma lei è una persona che anche quando sbaglia, anche quando sa di essere in difficoltà, te la impacchetta bene dialetticamente. Puoi prenderla in giro per certe sue digressioni un po' troppo romanesche, però sa parlare, sa fare propaganda e quindi anche adesso, dopo essere tornata senza niente in mano, per colpe sue, colpe dell'Europa dal Consiglio Europeo, lei è comunque quella che ha detto al suo popolo io non sarò come Conte, io non sarò come Draghi, io non sarò come X o Y. Non è vero nella realtà dei fatti, però la politica è anche propaganda.